Salve ragazzi, sono Ghiata e bentornati su TheBanicoVasaCaptalwarePlus. Allora, nel precedente episodio, come vedete dalla Winstreak, di nuovo a zero, siamo morti. C'è poco da dire. Vediamo di recuperare un po'. Allora, partiamo con esplosivo e con... non mi ricordo il nome dell'oggetto attivo, ma se non mi ricordo male... si carica... Utilizzandolo dovrebbe generare degli oggetti, se lo non mi ricordo precisamente. Intanto, vabbè, nel box... Eye of Greed, Gold Tears, che di fatto fanno in modo che a volte le mie lacrime trasformano i nemici in oro, e poi quell'oro spona eventualmente... Quell'oro, quei nemici trasformati in oro, sponano eventualmente delle monete quando fanno una finaccia. Ora, io direi di avviare le ondate, sperare che ci vada bene, perché nonostante la partenza decentemente buona a livello di oggetti, abbiamo il problema tecnico dell'avere stat basse... Vabbè, tanto, se non proviamo... Vabbè, è proprio un'esplosivo. Cosa che non ci stavo ripensando, sto facendo il conto soltanto. Eh... Dai... Ho già perso il 50% della mia vita, così, eh. Allora, io mi ricordo che questi... Questi simpaticissimi nemici... No, nei miei... L'oggetto attivo che abbiamo ha qualcosa a che fare con lo spawn di... Anche questi morgiamo da soli. Andiamo a stare a preoccupare più di tanto. Oppure quelli moriranno da soli, non dovrò raccogliere quelle monete. Perché le Gold Tears, eh... Belle è tutto, però hanno quel problemino tecnico del... Del consumo delle nostre monete, quando capitano. No, 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 no. Questa è morta è quasi assicurata. Oh no, non si può però così, non si può. O magari devo anche schivare. No, va giù. Per fortuna è l'ultimo. Allora, ho fatto un po' di casino. E non si può negare, ho fatto un bel po' di casino. Però se riesco ad arrivare a 15 centesimi... Perfetto. Io poi compro Mr. Dolly. Ok, ma da oltre quelli di fede mi ha abbassato le tears. Ancora. Quindi sono ancora più forte di prima. Potenzialmente potrei volere... No, niente. Eh... Niente, a posto così... Andiamo. Solo continuo a ricordarmi questa cosa del... Dio, continuo a ricordarmi questo fatto di questo oggetto che ha qualcosa a che fare con lo sfondo. Oggetti, ma non mi ricordo in che modo. Forse che li raddoppia... O che genera un oggetto e poi sparisce... Non riesco a ricordarmi. Vabbè. Ok. Perfetto. Quella è stata la cosa buona e giusta, perché se li trasformo in oro... Poi questi sono sorgenti di... Di danno. Perché faccio così... Solo quello può succedere. Ora... Dada extra per il patto? Ho preso 10 perché... Perché qua sopra posso dare uno... No, ho fatto una cavolata, ho fatto una cavolata. Dimmi che ce ne sono abbastanza. Sì, ce ne sono abbastanza. A questo punto mi compro un aumento di vita... Proprio serio... Così poi lo posso usare nel patto. Perfetto. Dicevamo... Ehm... Con data... Con i... Oh! Rock... Rockman! Ehm... Tanto ho messo così... Prende la danni a poco... E ci dobbiamo dalle scatole. Perfetto. Va giù. Grande. Tra l'altro... Ehm... Eye of Greed... Dovrebbe essere un oggetto quasi partita da solo. Alla coda di gatti. Ehm... E prendiamo questa coda di gatti. Quanto se esplodi esplodi eh. E' inutile che fai del pago. Ah ho fatto la cavolata. Perché ora mi sono... Ho avuto una specie di lampo di illuminazione adesso. Quell'oggetto... Genera un oggetto... Ehm... Affine al tipo di stanza in cui siamo. Quindi se l'avessi usato prima... Mi avrebbe dato un... Un oggetto da stanza... Da patto. Eh... Ora però... Me ne sono completamente dimenticato. Ho avuto una specie di illuminazione mentre uscivo. Basta che... Ci sono... Esclosivi in vendita... No. E sto spiegando centesimi. Perché sono un pirla. Vabbè. Si scende. Quindi cerco di tenerlo fino... Al patto. E poi usarlo nel patto stesso. Belly button. Volendo poter usarlo anche qua eh. Dallo posto della pestilenza. Non posso andare sopra. Vero. E ora... Che vogliamo fare? Aumento di tiers. Ma sto già a 6. Non si sta a posto qui. Sapete che faccio... Ehm... Lo uso qui? Tasche profonde o switch? Ah! Me ne genera due e devo scegliere uno. A questo punto previsco le tasche profonde. Ah no! Sono entrambi. Quindi posso rirollare anche il personaggio. Passandolo... Qui si troppo scuola switch. No! 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 Dai! Dei tante cose possibili. Proprio lui. Sono diventato keeper. Eh già. Non è al massimo. Non sto fingendo che sia... La cosa mi faccia piacere essere diventato keeper. Vabbè... Devo resistere soltanto quel tanto che basta per... Ah! Perché il telecomando, se non l'aveste intuito... Farsi... Di cambiare il personaggio che siamo... Ehm... A ogni utilizzo. Solo che venite conto che usare keeper non è proprio il massimo. Dobbiamo resistere soltanto un'altra ondata. Sì! Oh! Azazel! Beh! Azazel! Abbiamo un brimstone. E non abbiamo paura di usarlo. Credo. Vabbè dai! Eh! Azazel! Dai! CC! Solo che non so bene come funziona il brimstone di Azazel. Cioè in generale il brimstone... Con eye of greed. Credo che non sinergizino punto. E si sono tolti semplicemente ogni problematica. Vai! Io intanto cerco comunque di non raccogliere... Cinquecentesimi... Tra l'altro ho perso tutta la vita che ho accumulato. Questo è seccante. Perché... Ah perché giustamente sono passato attraverso... Keeper che non ha vita propria quindi... Per forza di cose. Che seccatura! Ma è davvero una seccatura non da poco. Quindi io faccio così. Qui esco. Apro qua. Mi prendo un bel aumento di danno. Che schifo non mi fa. E avviamo l'onda da boss. E ti pareva che capitavano... Vai! Vai! Io devo stare attento... Soprattutto al brimstone. Vai! Andate! Vai! Non è che sono troppo preoccupato per il resto. Non sono preoccupato per l'eventuale brimstone. Eh vabbè... Ovviamente... Asuka non può fare il brimstone. Non mi riferivo a... In generale. Non è che possiamo... Che so... Mi interesserebbe molto avere un... Esatto. Un cuore di fede. E la spiegazione perché voglio il cuore di fede è abbastanza semplice. Semplicemente se mi dovesse capitare un patto da due... Molto appetibile. O da tre. Vorrei poterlo prendere senza il rischio di morirci male. Anche perché vi faccio notare che per come stiamo messi adesso... Io per come stiamo messi adesso... Ehm... Ipotetico patto. No, ipotetico patto. Aspetto. Potrebbe essere vantaggioso. Posso comprarmi un'altra roba. Contact from below. Per fare un esempio. Prefisco non prendere anche questo. Perché con Asatal mi trovo decentemente bene. Però vorrei comunque aumentare... Uno... E due. Aumentare la mia vita perché... Si tutto è bello ma... No. Tutto è bello ma no. E... Mi trattengo da rirollare... Il personaggio. Perché con Asatal mi trovo bene. Probabilmente avremo problemi unicamente contro... Ultra Grid. Aumento di vita e di danno? Why not? Zodiaco? Why not? Certo, sarà un po' difficile capire chi siamo. Siamo gemi. Tempo... Mezzo secondo per intuire. No, non mi cambio la distanza a cui sparo. Quindi è abbastanza superfluo. Olè. Adesso. Stiamo messi così. Ok. Altro no. Little Horn. Ogni tanto spareremo un colpo... Strano. Mettiamola così. E possiamo avviare l'ondata direi. E magari se scappate meno... È più facile profilarvi. Olè. Ho fatto una cavolata estrema. Perché... Il rischio di danno lì era veramente alto. Olè. Uno. Due. Due. Vale. Ok, ok, ok. Eppure va andata. C'è rimasto? Questo. Ah, questi poverini che di solito sono tanto una rogna. Ma questa volta... Senza il loro... Come si può dire? La loro assistenza. L'assistenza che hanno di solito da... Dal fatto che non posso essere colpito frontalmente. Vanno giù che è una meraviglia. Ok. 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 Ho dovuto far così. Faccio molto prima. Eh... Ondata boss? Why not? Anche se non si riuscita a capire pitch era... Ok. Ok. Ho sbagliato. Ero convinto fosse un altro nemico. Questo è quello che capita quando si è eccessivamente sicuri di sé. E non sia motivo di esserlo. Perfetto. Perfetto. Ora. Allora, io direi di andarci pesante. Ma del tipo... Gaffi Sed. Sono combattuto perché il pentagramma ormai sono già abbastanza forte. Vabbè, prendiamo il pentagramma. E non so perché ho portato con me la HP Sed. Compera onestà non lo so. Questo è andato. Torn photo. Torn photo sarebbe fighissimo se si riesce. Se si riesce... Aumentare ulteriormente le fiatze? Sì, ci si riesce. Olè. Ehm... Però penso che sia abbastanza inutile fare sta cosa adesso. Ma perché non ho? Perché ne ho solo uno? Vabbè. Niente. Niente. Niente di utile. Speravo di beccarmi un bel cuore di fede. Però... Senza perderci troppa... Senza perderci troppe... Senza perderci troppe... Monete non ha più senso poi trovarlo. Perché poi non lo potrei comprare. Ehm... Quindi siamo nel Womb. Curse of Darkness. E non abbiamo chiavi per entrare là dentro. Certo abbiamo un aumento di danno eh. Che non mi pare abbia... Modificato. Che che sia. Sono vicinissimo... All'abbandonare sta cosa. Perché penso che ci stiamo mettendo abbastanza... Ma ci si stiamo mettendo abbastanza male. Ma vabbè. Vai. 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 Non sono diventato mai... Ok. Questa cosa è più uno svantaggio che un vantaggio. Perchè per quel tempo non riuscivo neanche a danneggiare. Essendo io molto forte. Offensivamente parlando. Per me molto... Meglio far danno ai nemici che... Lasciarli sopravvivere in giro. Vai. Perfetto. Ora però sto sempre messo peggio. 15. La chiave si compra. E non è un problema. Il problema è il resto. Il problema è il resto. A meno che qua dentro non ci sia qualcosa di veramente... Ecco. Sacchetto delle bombe. No. Niente di così eclatante. Mi ha salvato la vita. Perfetto. Chi è? Ah ok. Scolex. Che potrebbe essere un po' un problema. Dai. Stavore. Dai. E vabbè. E vabbè. Essendo ovviamente uno. Perfetto. Ora. Ondata extra per il patto. Uno e due è andato. Ok. Non mi ricordavo se questi potevano volare o no. Non possono a quanto pare. E no dai. E no dai. Ciccio. Cici. Mandato. Perfetto. Perfetto. Qua devo stare molto attento perché se mi capita una troll bomb... Esatto. Ciccio. E cici. Se mi capita una troll bomb, come è capitata? Piacomo. Possono essere cavoli. Focco. Power pill. Addictor. Ferromoni. Con questa me ne vado Uff Non se può Non sta prendendo una bella piega Centesimo e momento alla fortuna Vabbè Quindi Arrivati a questo punto Prima diamo anche il croce a questo punto Questo mi dà un po' di fede E so che sembra poco ma Per come sto messo adesso io Va bene Infested Va bene Poi Tutta roba inutile Grossomodo Ok Aumento di rate Niente di troppo eclatante Fai to win Inutile qua Ok Ho solo perso da sto scambio Vabbè Abbiamo le ondate Ok Vabbè Vabbè Dov'è? Ok Mi sto rendendo conto che sto molto in silenzio Però è che non mi sento minimamente sicuro Ok Faccio bene anche a esserlo Perché Ok Cos'altro c'è? Vabbè tu puoi morire così Perfetto Ok Ora a me sono un concesso che stia facendo un buon lavoro E non ne sono ancora sicuro Possiamo migliorare la mia situazione? Per favore La Zero Slag ci potrebbe stare Ah in effetti la Zero Slag mi fornirebbe almeno una singola vita extra Che è più di quanto Possa sperare in questo momento Ok Adesso Ah no tante inutile Se mi rimane soltanto Le cose dei boss Mi sa che non ho abbastanza soldi da raccimolare Attivare che quando danno Vai 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 E' un andato Ah Ha detto la variante Champion Che ha le lacrime a ricerca Ma dai Serietà Ok Ora Sto messo comunque male Però Mi sembra di vedere Che ci siano abbastanza centesimi Sto a dentro Quindi Aumento di vita Vabbè dai Cinque Meglio di niente E' di fortuna Ondata del fatto Ok Un cacchio fatto a mancare Mi è rimasto un attimo bloccato Il Il personaggio Mi è rimasto bloccato diciamo nel momento molto sbagliato Perfetto Ora Giro Qua Ok Sono abbastanza inutili Cioè Perché da lui può far cose ma Vabbè Tanto probabilmente moriremo comunque Quindi tanto vale Farla sta roba Ma vogliamo veramente morire morire Morto Si è suscitato come lazzaro Certo abbiamo una buona potenza di fuoco E tutto Ah Però Non andremo lontano Non andremo per niente lontano Meglio che non ci capire qualche botta di fortuna Ma Quando mai ci capire botta di fortuna Siamo sinceri Lo shop DFF Potrebbe essere interessante Uno Quattro Cinque Sei E niente Questo mi sarebbe stato un uomo Probabilmente si va a morire Eh Anche perché da una cosa all'altra Non siamo messi affatto bene al comparto Dai Mi devo ricordare di avere sto tacchio di esplosivo Perché Se lo si usa bene Mi potrebbe portare alla sopravvivenza Non alla salvezza E alla sopravvivenza Ecco infatti Non ho fatto il tempo a dirlo Bene Caro diario sono morto Sossoggio da questa cosa in un qualche luogo oscuro Lascio tutto in me dire al mio gatto a coppi Bye bye mondo crudele Lazzaro E siamo già due cose che non riesco a fare di seguito Incomincio a nervosirlo Ma vabbè Ciao